Di Berta, Spes e Rottofreno sono state ospiti allo spazio Rotative nella puntata di Zona Calcio andata in onda ieri sera. È stata la serata delle celebrazioni per le due compagini capaci di conquistare l'ambita promozione in prima categoria. Una festa, quella andata in scena in via Benedettine, che ha visto come protagonisti i giocatori accompagnati in studio da allenatori e dirigenti. Io credo che questo momento del venerdì sera sia un momento che cementa veramente persone che fra di loro in parte si conoscono ma non si conoscono. Anche le eventuali tensioni che sono inevitabili nella scuola di calcio, sia che vinci sia che perdi, le antipatie che sono naturali. Non è che tutti ci siamo simpatici l'uno con l'altro, però si cementano attraverso questo momento che è un momento di unione e di convivialità. È fondamentale, io partecipo con massimo divertimento alle serate, ho avuto il piacere di partecipare anche a quelle del rotofreno, infatti ho visto che in un messaggio è stato ricordato come un consumatore di vissole. Allo stesso modo sul fronte bianco-rosso il successo della vittoria del campionato ha creato grande entusiasmo. Mentre la squadra sta festeggiando, noi l'abbiamo visto leggermente provato. Sì, sì, no, dovevo scaricare in qualche modo, non è nel mio carattere ma mi hanno fatto impazzire ieri. Parlavo con la gente... Perché non segnavano? C'è stato un tifoso della Pontogliese che a un certo punto mi ha detto, avete sbagliato così tanti gol che tifo per voi. Ah sì? Le repliche andranno in onda domani alle 10.30, giovedì alle 21.45, venerdì alle 9.30. Grazie. 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 Grazie a tutti.